Buonasera a tutti, grazie a tutti, ringraziamo il senso che siamo da un, il 21 grammi, il Presidente dice due parole, poi passiamo a salutare i miei che sono subito sopra, grazie per il video del segretario, per sempre il segretario del rottore di Verola, lo salutiamo. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti, grazie a chi ha donato il riso, chi ha donato informati, carioni, avendo gaudo, due parole per spiegare cos'è il 21 grammi, cos'è il Centro Bresciano Down, il Centro Bresciano Down è la mamma del 21 grammi, è l'associazione di cui fanno parte le famiglie e le persone considerate da provincia di Brescia e anche nel 2014 ha deciso di dare vita alla cooperativa sociale che si chiama Big Bang che ha creato questo al ristorante e qual è lo scopo del 21 grammi? Le famiglie hanno deciso di impegnarsi direttamente in termini imprenditoriali per creare non tanto dei posti di lavoro per le persone con disabilità intellettiva ma per creare un amore formativo dove le persone potevano allenarsi. Ad oggi abbiamo due riprendenti con la simulità sui sette totali, abbiamo 17 tirocinanti che vengono in collaborazione con i loro servizi sociali a fare dei tirocini ma soprattutto l'obiettivo più grande che abbiamo raggiunto è che dieci persone stanno lavorando in aziende esterne con contratti a tempo indeterminato, due persone sono la Primark al centro commerciale del nostro, una persona è allenato, una persona all'interno di Sirmione, una persona sta lavorando in un'azienda metà meccanica di Franciacorta, quindi il grande obiettivo era quello di far vivere alle aziende che lavorare con una disabilità intellettiva è possibile, non deve spaventare, non è facile, è un percorso importante da affrontare ma è possibile. Basta che si vede, basta, basta, basta. Grazie. Dopo il problema Presidente, a parlare della mia condizione, la parola della sua stanza per le risorse di tutti, un po' di appoggiare al Presidente. A questo è il Salve di Sommaro, a questo è il Salve di Sommaro, a questo è il Salve di Sommaro che è fatto fare un saluto dalle persone che sono qua, quindi magari non si è mandato. Eccoci qua, eccoci qua, buonasera, buonasera, eccovi qua. E' un salve di Sommaro. Io ho risolvato, è un salve di Sommaro. Grazie per l'aiuto che ci dà questa sera al locale e del Boriccio per tre ringhi e asserterete. Ecco a lui un bel insieme. Grazie. Allora, innanzitutto lo ringraziamo il nostro sponsor che ci ha corrido la materia prima e non parlo assolutamente al salato dei risotti, quindi assolutamente grazie a Riducato. Grazie a Riducato. Vinciti, che vi è piaciuto assolutamente della fazienda, cioè siamo la sesta generazione di modernitori, quindi un patrimonio come sempre rilanciato e dato nel futuro, continuata e questa è la cosa più importante, quindi sicuramente una storia importante che parte due secoli fa in realtà, ok? e quindi con davvero una capacità di adattamento anche alle condizioni, sia di opportunità economica, sia magari di complessità intera. e quindi con davvero una domanda interessante. Sì. 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 e quindi comunque l'interlizzo è una delle alimenti più piuttosto al mondo, però l'interlizzo deve evolvere, quindi c'è stato il passaggio dai sacchi alle scatole, alla scatole come il riso barboid, con la cultura più veloce, sempre per l'incontro alle esigenze del consumatore, quindi questa ovviamente è una cosa. Abbiamo una tecnologia che non ci assiste, è vero? Una base delle nuove. Sei generazioni, è stata l'ora, sono stati vari momenti difficili, diciamo che grazie ai miei abiti sono stati tra quali speriamo di continuare ancora l'ora. Grazie, grazie. Una cosa importante che ho letto di questa tenda è che loro anche c'erano più in cerca. di questa tenda. E questa è bellissima tenda. Chiaramente è contenta per te. Più di miei quadrati dedicati con i lavori di lavoro specifico sull'emortazione della ricetta per perfezionare sempre più per ogni prodotto. Più di miei prodotti. Per esempio, noi gli unici facciamo anche il cerchio di un seno. Quindi sulla varietà nuova tendremo a mangiare perché la varietà di veriti cambiano il tempo. Per esempio, quello che adesso mangiamo è un marmollo, non è un marmollo. Mi piante. 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 Ma io quindi c'è molta tecnologia per riuscire a mantenere altre varietà che ovviamente è importante di due volte, quello di più. Grazie, grazie.